In città si respira aria di derby, domenica il Gran Sasso arriva l'Avezzano in una partita da sempre attesa e molto sentita, anche per la storica rivalità tra le due tifoserie. La prevendita dei biglietti per i tifosi rosso-blu già si è aperta ed è corsa, sta andando molto bene, è una gara di cartello, gli aquilani non vogliono mancare. Questo è il primo invito che ci sentiamo di fare, quello di acquistare in prevendita per evitare code, file e disagi di ogni sorta. È una prevendita che sta andando bene, con una previsione di oltre 3.000 spettatori, con una quota aggiuntiva di ragazzi appartenenti al settore giovanile nostro, quindi dell'Aquila 1927 e del Real Aquila, a cui viene offerto l'ingresso gratuito. I presupposti ci sono tutti per una bella giornata di sport, una bella giornata di calcio, una bella giornata di tifo. Dai primi di ottobre in centro storico la società, che per domenica ha indetto la giornata rosso-blu, ha aperto uno store ufficiale Sport Hub ed è qui che la maggior parte dei tifosi sta acquistando i biglietti per vedere il derby. La vendita sta andando benissimo, i tifosi vengono sin dal primo orario della mattina e speriamo di riempire lo stadio in questa giornata rosso-blu. Al momento per questa gara, sotto osservazione comunque, dopo i fatti del dopo l'Aquila Sora, non ci sono particolari prescrizioni. Per i tifosi avezzanesi, 250 biglietti che saranno nominativi, la trasferta non sarà vietata, un numero basso però secondo il club bianco-verde, ma tutto è rimandato al comitato di domani per l'ordine e la sicurezza pubblica che fornirà le indicazioni finali. L'auspice è che comunque ci sarà una bella giornata di sport con un pubblico delle grandi occasioni. L'Aquila 1927 si sta preparando al meglio per questa gara e per migliorarsi sotto tutti i punti di vista, sotto la guida del neotecnico Roberto Cappellacci. Del resto le prossime due gare sono fondamentali per capire quali saranno le ambizioni a questo punto del campionato. Lei è un tifoso, ha appena acquistato il biglietto, al derby non si manca anche se lei è presente tutte le domeniche. Sì, sono presente tutte le domeniche ma a prescindere dal derby non si manca e mi auguro che ci sia la grossa presenza di tutti gli aquilani, ma su questo non ne ho dubbi. È una partita molto sentita, c'è sempre una rivalità storica, insomma il derby è il derby contro l'Avezzano. Il derby è sempre il derby, è una rivalità storica ma quest'anno in particolare è una partita molto importante. Importante sia per una questione di classifica, sia perché il nuovo mister ha bisogno di avere conferme e soprattutto perché l'Avezzano sta facendo una marcia brillante fino a questo punto. Quindi non è una squadra assolutamente da non sottovalutare che verrà secondo me qui all'Aquila a fare la sua partita e non certo a chiudersi.